Una giornata importante per quanto riguarda la vertenza Natuzzi. Al Ministero del Lavoro è stata filmata da azienda, sindacati e istituzione l'intesa finale sull'evoluzione dell'accordo del 10 ottobre 2013 che aveva dato il via al piano di riorganizzazione dell'assetto industriale del gruppo in Italia secondo gli obiettivi del piano di trasformazione. L'accordo raggiunto è uno strumento determinante per il rilancio degli stabilimenti Natuzzi in Italia portando a compimento il percorso di efficienza produttiva e riduzione di costo del lavoro testato in questi mesi nel laboratorio sperimentale del gruppo e che ha dimostrato un sensibile miglioramento degli indici di produttività. Il nuovo assetto produttivo italiano prevede la specializzazione delle fabbriche per tipologia di prodotto e la realizzazione del ciclo completo di produzione dei divani all'interno di ogni singolo impianto. Negli stabilimenti di Matera Iesce e La Terza verrà prodotta tutta la gamma di prodotti Natuzzi Italia. Matera Iesce in particolare sarà anche lo stabilimento di riferimento per la produzione di Revive posizionandosi come centro di eccellenza e di innovazione. Lo stabilimento di Santeramo Iesce invece sarà destinato alla produzione della collezione divani e divani by Natuzzi. Il nuovo assetto industriale consente di ridurre gli esuberi strutturali da 1506 a 534. Il nuovo organico in Italia sarà quindi composto da 1800 dipendenti per i quali l'accordo prevede l'applicazione del contratto di solidarietà. La restante parte verrà affidata alla tutela della cassa integrazione guadagni e gradualmente riassorbita attraverso le iniziative di reindustrializzazione del territorio previste dall'accordo del 10 ottobre 2013 e in parte già avviate. A sostegno del Made in Italy, il gruppo ha previsto investimenti complessivi per 25 milioni di euro fra marketing, ricerca, innovazione e adeguamento industriale.